Mia regina, il popolo è felicissimo di come sta regnando, sono tutti felici, il villaggio sta crescendo, sta prosperando ed è tutto merito suo Ah, sono la miglior regina E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef, e oggi giocheremo a Sort of the Court E ovviamente non potevamo non tornare in questo fantastico gioco, è piaciuto tantissimo a voi, è piaciuto tantissimo a noi E ovviamente il mio regno ha bisogno di continuare a prosperare e a servire tutti i propri sudditi E spero per il tuo bellissimo consigliere super fidato che eviterai questo dannato vampiro Credo che la lezione ormai te l'abbia insegnata come si deve Esatto, no, te ne devi andare Vada via Non ti vogliamo qui a corte, vai via, vai via, vai via Ciao Dimmi Sì, dai Dimmi, ti accontentiamo sempre perché sei carinissimo Ci ha portato tre persone e tre di felicità, Dimmi, guarda, ti vogliamo davvero bene Ti vogliamo bene, sei l'unico qui a corte che si comporta davvero bene Esatto, allora lei parla sempre per il popolo, quindi queste sono le scelte sempre un pochettino più complicate Allora, ci sta chiedendo praticamente se vogliamo mettere delle tasse ai mercanti Ti ricordi che avevamo scelto di aprire i confini del nostro villaggio nello scorso episodio Praticamente avendo aperto questi confini a quanto pare il commercio è aumentato in modo talmente drastico Che le strade sono troppo piene, quindi mettendo delle tasse possiamo rimettere un po' di controllo e farci anche i soldi Secondo me Sì Secondo me è una buona scelta Dai, è il momento giusto, due di felicità Due di felicità è poco Va benissimo Comunque i soldi vanno bene Di nuovo Ancora No L'abbiamo detto di no Devi andare via, basta Vattene dalla corte Cioè, guarda che adesso chiamo un ammazzavampiri, eh Te lo giuro che lo chiamo Ecco o adesso Boom boom Badabum Dum dun Bush Sì Mi piace il tuo ritmo Sì 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 Mi piace un sacco il tuo ritmo Sei bravissimo I'm the groove Bellissimo Sei fantastico Ti adoro Te guarda più 22 Siamo a 185 E guarda dietro quanto è grande il nostro villaggio Cioè, sta lavorando a un videogame A un videogame Non possiamo non accettare Sì No, no Allora Voglio vedere il tuo videogame 들어 di felicità Ok Ha detto che è felicissimo di avere questa possibilità C'erano già i videogame? No Ma non ce l'hanno neanche i robot Lui è un robot, viene dal futuro Quindi ci sto diciamo proponendo questa cosa nuova Che poi ci fa altre domande Sì, credo che ci voglia E far decidere in che stile è il gioco Quindi dice Un gioco dove giochi con altre persone E vai in giro ad ammazzare dei mostri E hai una spada Sì, mi piace Sì, ci piace molto Mi piacciono un sacco Ok, le spade sono belle, vero? Ha detto la cosa che io ho appena detto È inquietante È inquietante Quindi quando ammazzi i mostri Ottieni dell'esperienza Stai ancora ascoltando? Sì, sì, ti ascolto Siamo bellissimi Così, 50 soldi, 5 di felicità Solo per aver ascoltato la sua idea Grandissimo robot Ci piace tantissimo il tuo video Allora Allora, io mi sto arrabbiando, eh Guarda che cosa ci dice il nostro generale di battaglia Eh, questo è difficile Allora Sono il tuo consigliere, sono saggio Ti espongo i due punti di vista Ok Allora, prima devi Prima spieghiamo Esponi la questione Abbiamo catturato dei nemici durante la guerra Le possibilità sono due O farli lavorare per noi Quindi metterli O rimandarli a casa A lavorare nel nostro villaggio O rimandarli a casa I rischi sono questi Se li facciamo entrare da noi Potrebbero scatenare una rivolta Perché magari è tutto un trabocchetto Per fregarci e far partire una rivolta interna Sì, però i nemici vanno anche puniti Perché se tu li rimandi a casa Poi sembri un regnante debole E poi magari questo torna con gli amici A fare un colpo di stato Perché queste cose finiscono sempre in questo modo Io sono esperta Quindi vuoi andare di sì Sì, a lavoro Che dici? Sì Io mi fido Sì Sì Bravissima Continua ad ammazzare le persone Perché è sempre sfiga? Perché non è sfiga? No, è sfiga Bastava dirgli di noi Non succedeva nulla Eh, ma ti ricordi Quando ci ho dato un sacco di monete Cioè Capito? Un po' mi tenta Pensi troppo ai soldi Devi pensare Oh I consolini ci hanno fatto sapere Che dovevamo dargli i soldi Perché ce li avrebbero ridati Allora, sì Certo, donnetta Guarda, vieni quando puoi Le rido anche i soldi Poi se ci richiede Esatto Se torna a chiedirci quello Le li diamo Promesso Siccome tu sei bellissima Avrei fatto un bellissimo lavoro Sì, siamo felici che hai finito E ti abbiamo dato una mano Ci ha riportato le persone Che sono andate a darle una mano A lavorare E lei è bellissima Oh, il sulzano Praticamente penso che voglia fare Un'alleanza Tra la sua e la nostra città Io direi di sì Sì, mi piacciono le alleanze Secondo me le alleanze Le alleanze ti fanno diventare più forte Infatti, guarda Guarda, guarda Ma che inizio incredibile oggi Tu l'hai visto che ha un pulcino in testa Sì, è troppo carino Anche lei era già venuta Allora No Allora, praticamente questo Eh, lo so Ha mangiato troppe caramelle Tutta la notte Io qui empatizzo Mi empatizzo tantissimo Ok Perché io spesso mangio caramelle Tutta la notte E lì domani mi ritrovo mal di pancia Quindi sì, puoi avere i soldi Per il vostro Ti stai medesimando Per il dottore Nella madame Mia cara Lady caramella Oh mamma mia Cioè è un drago E ci minaccia Costruzione Abbiamo delle nostre costruzioni Ho bisogno di trovare un metallo Di gare Divertiti Sì vai Tanto ci stai portando via soldi pure te Allora Giusto per dare altri 10 Sì sì Però guarda Più 19 Perché se sei in positivo Puoi continuare a aumentare Quindi sinceramente Ce la siamo giocata da Dio Contando che un drago È venuto a minacciarci No 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 Yes Ti farò togliere la testa Sei un traditore della corona Sei un traditore disgraziato Mi devi 200 Devi morire Ti odio Non sei più il mio consigliere Ti giuro Selezionerò un consoline Ti sostituirà Te lo dico Te lo dico Me lo sentivo dal cuore Che ci avrebbe dato quei 200 Allora Lui praticamente è tornato Praticamente ci sta parlando Delle sue cose E ci sta Dando un regalo Certo che accettiamo il tuo dono Scusami Perché dovremmo rifiutarli 40 monete Grazie Per ringraziarci Tutto quello che abbiamo fatto per lui Stiamo andando benissimo Oh c'è un'annetta Sì 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 I consolini mi hanno consigliato Di aprire il suo negozio Ci fidiamo di te 5 10 No mi fido dei consolini Anche della nonnetta Poverina Allora ti dico la verità Non ero molto d'accordo Ad aprire un negozio di zuppe Sei alzata Anche perché Chi è che vorrebbe un negozio Perché ci stanno piovendo soldi Perché la città è arrivata a 250 Il nuovo record E adesso si chiama city home Perché prima era un villaggetto Ma questo è tutto arrabbiato Ci chiede soldi Sì Sicura È bellino sì Io alle cose belline Do sempre soldi 100 Perché li hai dato Sei un ladro Sei un ladro Cioè ti taglio i piedi adesso Ma li hai dato tu Perché non ho le mani Altrimenti quelle li avrei tagliato Sì Sì grazie Te l'avevi già detto You can be the creep queen Ho 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 Secondo me sai che cos'è Punta a diventare il giullare di corte Ah è tornato schelli Uh Allora Vediamo cosa ci propone lui Perché lui è sempre uno dei interessanti Ci vuole offrire un sandwich E dice Sicuramente un sandwich Non è niente per una regina come te Quindi E dammi sto sandwich Cioè io pensavo Vessi costruire qualcosa Invece ci dà un sandwich E mi viene a vendere un sandwich Ok Tu almeno sei importante Giusto Non ci stai vendendo un sandwich Giusto Allora sì Ci vuole fare una proposta di business Siamo molto interessati Per la nostra città Ok Ma non ce l'aveva già detto Anche un'altra volta Sto storia Ti darò i dettagli E infatti poi è venuto a proporci l'alleanza Hai ragione Hai ragione L'alleanza è stata una buona cosa Capito Oh mio dio Cosa sta chiedendo? Secondo me Ha una moneta scintillante Quindi cosa sta chiedendo? Sì Sì Ok ce l'ha data Ciao Ok grazie Ciao scintillante Cosa è strana È fantastica Mia signora Ci stanno chiedendo di investire più soldi Per far costruire più in fretta E più case Per crescere ancora di più Con la nostra cittadina Sì Vuoi investire dei soldi? Siamo messi abbastanza bene Mi sembra giusto investire Ok Sì 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 Vi doniamo i soldi Andate Cento monete ci può stare Contando che ne hai regalato Eh però se poi riusciamo ad avere più abitanti è molto meglio Certo contando che ne hai regalato cento a un tizio random Guarda 400 al drago Ricordati quello Ma almeno lui ci stava minacciando Quello Ancora però non sono tornato indietro Guarda te lo dico Oh Ok Ok Pensavo mi dovesse dire qualcosa del next one Speriamo ci fosse ridare i soldi Se lo demolisco adesso Oh no Secondo me questa volta no Facciamo che siccome col gioco d'azzardo sei terribile Ci penso io al mago Mi sta chiedendo per una sua carovana che starà nella nostra città per qualche giorno Sì sì abbiamo alleanze mi fido di te Vabbè Certo certo Dieci persone grazie Guarda lui porta solo buone notizie Sinceramente Oh salve Solo buone notizie Sì la voglio grazie Sono molto stressata Quindi la voglio Grazie Ok tre monete e tre di felicità Perché me la fa pagare un mio servo Non me la dovrebbe far pagare Ok Che bellino questo disegno Praticamente Allora c'è la caravana del sultano Come abbiamo detto Sì Che rimane nella nostra città I nostri cittadini stanno scambiando e commerciando con loro E quindi praticamente ci sono anche le tasse Che vengono riscosse E presto ce le prenderemo noi E le tasse sono quelle che avevamo messo noi Se ti ricordi È una figata Quindi è tutta una conseguenza di quello che noi decidiamo di fare Oh no Allora dice che praticamente questo gatto sembra magico E non è sicuro che cosa vuole Quindi sì Siamo sempre positivi con le persone pericolose Ok ci ha dato uno di felicità I gattini li portano suortuna E per di più secondo me Era una strega No vattene Guarda che aveva ragione Non ci credo I lavoratori che abbiamo preso Cioè praticamente i nemici Che noi abbiamo deciso di far lavorare nel nostro regno Praticamente hanno aiutato a costruire la nostra città Ah quindi vuol dire che avremmo maggiori tasse da risquattrito L'ho detto Che loro avrebbero perdonato Ancora pure qua 15 soldi in più Ti dicevo Te l'avevo detto che avrebbero perdonato Avrebbero capito il fatto che io non gli ho tagliato la testa E infatti sono diventati i nostri alleati Sono felicissima Sta andando tutto benissimo Avevo ragione Sono un'ottima regnante Ridaci i soldi Ok Ok 50 15 Ok Ah credo che magari Ce ne porta un tot ogni tanto Beh giustamente appena avviata la possibilità Ha senso Allora Questo giardino mi sta un po' rompendo le scatole Ce l'ho un po' incastrato qua A me piacciono i giardini Ricordati che abbiamo un bonsai Quindi non criticare le piante Quindi cosa vuoi fare? Allora stavo leggendo un attimino Oh no Oh che bello Oh no Sì la mia corte ha assolutamente bisogno di un pasticcere Sì vieni Vieni sì Le torte sempre Stanno iniziando a capire i punti deboli di Ferrenichi Sì guarda che incredibile Cioè mi stanno leggendo dentro Incredibile questo gioco Mi sta inquietando Vai Secondo me cercheranno di avvelenarti con una torta No è impossibile Sono un'ottima regina Ci stanno chiedendo soldi Altrimenti se ne vanno Alcuni sì Sinceramente non glieli diamo Sei persone quanto gli avremmo dovuto dare Siamo ben messi con la popolazione Possiamo In effetti sì Permetterci Capito Oh questa carovana continua E a fare commercio tra i nostri abitanti E noi siamo felicissimi Guarda le persone Vedi te le sei anche già rifatte Non siamo più così pochi Quindi non dobbiamo più pensare Sì praticamente ci stavamo minacciando Per andare via Bla 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 Ha rotto le scatole Dai sto Così sei felice Se no sta sempre male Capito Almeno la curiamo Io le darei due schiafi Invece che dieci monete Però Oh è tornata Ok Grazie Altri guadagni Quanto ci dà? 15 Guarda che una figata sta nonnetta Se continua Aveva ragione Il mio batterista preferito è tornato Sì Sì Mi piace Mi piace Mi piace 5 di felicità Sei troppo figo È bellissimo Con i capelli così È bellissimo È fantastico Oh no Ha detto Sei pronto per la verità Gli alieni sono appena atterrati nella nostra terra E sono nella nostra città Pensi che saremo salvi? Abbiamo avuto a che fare con l'alieno E non è stato pericoloso Però Possono essere un problema Io non sono tranquilla Quindi no Non penso che siamo Che siamo al sicuro E infatti guarda Abbiamo Abbiamo allertato Abbiamo guadagnato sette di popolazione Quindi la scelta credo che sia stata giusta Uh Allora La città con cui abbiamo fatto un'alleanza Sono nei guai Dobbiamo decidere se mandare delle nostre truppe Sì 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 Guarda che perdiamo Ok Sì però mi piace il sultano Ho capito Secondo me è un ottimo alleato Quindi lo voglio sempre aiutare Sono d'accordo Sì Lo chiamiamo un castello Hai rotto le scatole con questa domanda Va Vai via Vai via Non sei divertente Il giullare Ciao giullare Sì Uno spettacolo Perché secondo me rende felici i cittadini Quindi mi sembra un ottimo investimento Anche questo Cercare di rendere Sempre felici i nostri abitanti Di sicuro non fa felice noi Oh è tornato Hai fatto un buon videogioco? No Praticamente Mi ha detto che deve lasciare la città Per continuare a sviluppare il suo videogioco Per fare il suo sogno E ha detto che ci lascia questo ingranaggio Perché non sa se ci rivedremo mai Quindi per non dimenticarci di lui No ma che cosa triste Però abbiamo l'ingranaggio E ci ricorderemo sempre di lui Sappiamo che abbiamo aiutato Un robottino a fare il suo videogioco A creare il suo videogioco Chissà se sarà utile Prima o poi Esatto Spera che si riuscite Se il video Sentite un bel like E se la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao